E noi diamo il buongiorno a Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR, con la scienza quotidiana. Adesso aspettiamo solo il momento in cui arriverà Alessio Zucchini a contestare il fatto che anche oggi abbiamo degli alimenti qui. Ed è formaggio, di cosa si tratta? Formaggio e ricotta, infatti. Presto, prima che arrivi Alessio, presto diamo la spiegazione scientifica a quello che stiamo facendo. La spiegazione scientifica è molto semplice, caro Alessio. Non ce l'abbiamo fatta, è arrivata. Che formaggio e ricotta sono derivati del latte, sono entrambi dei latticini, ma hanno una natura profondamente diversa. Sappiamo che il latte e i derivati sono essenziali nell'alimentazione umana, ma magari vale la pena di far capire per quale ragione lo siano. Allora, partiamo dall'inizio. Noi, tra le sostanze più importanti della nostra biologia ci sono le proteine. Hai capito che tutta la vita può essere spiegata con questi blocchetti? E tu hai appena ammazzato qualche milione di persone. No, hai ammazzato una proteina, perché queste sono proteine che sono semplicemente dei... Scusate, puoi vedere il giochino a mia perché non è divertente. Delle strutture biologiche che svolgono molte funzioni all'interno del nostro organismo, servono a promuovere le reazioni biologiche, ma servono anche ad esempio a proteggerci oppure a dare una consistenza strutturale. La membrana delle nostre cellule è fatta di proteine, i nostri muscoli sono fatti di proteine. E volevo far vedere che le proteine appunto sono costituite da tanti elementi differenti che si chiamano amminoacidi. E quando noi digeriamo una proteina, altro non facciamo che scomporla... Quello che ho fatto io prima. Perfetto, questa volta è fatto di proposito. No, 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 è fatto di proposito perché bisogna far vedere come si decompone, perché poi il nostro organismo la ricompone nella maniera propria, nella maniera che ci serve per svolgere le funzioni organiche. E il latte è una sorgente preziosissima di proteine. Allora, volevo iniziare a far vedere quali sono le proteine del latte con un esperimento molto semplice. Io prendo dell'alcol, vuoi farlo anche tu per far vedere? Sì, 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 sì. Alla cincina. Dai, una bella sponzata. E alcol denaturato. Ci mettiamo dentro, sì, non le respirare, perché le esalazioni alcoliche non sono consigliabili. Tira un po' più su, vai, che è dietro la bottiglia. Ecco qua. Un po' a te. Sai perché l'ha fatto fare a me? Avresti fatto cadere il bicchiere. Guardate che cosa è successo. Se sai che fosse per la tua dimestichezza con l'alcol. A te è venuto anche meglio. È diviso completamente. Perfetto. Il latte si è, come si dice in gergo, cagliato. Cioè, da liquido che era, adesso sono precipitate, cioè si sono coagulati i grassi e le proteine. Adesso lo lasciamo, poi potremo far vedere che diventa sempre più evidente questo effetto di coagulazione man mano che passa il tempo e questo è il metodo con cui si fa il formaggio. E la dimostrazione di oggi consiste proprio in questo, nel far vedere che differenza c'è tra fare il formaggio e fare la ricotta. Allora, immaginiamo che queste sostanze che abbiamo appena visto, lattescenti, bianche, siano costituite da queste palline, che sono una delle due componenti delle proteine, e queste altre, sempre proteine, ma filamentose. La sacchetta delle arance. Esatto, qualcosa del genere. E le mettiamo dentro. In questo momento abbiamo fatto il latte, in pratica, perché è una soluzione acquosa di grassi e proteine. Guardate come le proteine che sono rappresentate da queste palline, da questi filamenti, adesso siano tutte quante rimescolate. Nel fare il formaggio, quello che si fa è di dividere queste due componenti. Le componenti sferiche, le palline che si chiamano appunto globulari, sono le caseine, cioè le componenti principali del formaggio, dei vari formaggi. Vediamo. Consentimi la vanità professionale, uso lo stesso alcol con cui ho fatto il caglio per fare anche la dimostrazione. Guardate com'è, è semplice. Io aggiungo alcol, che in questo caso ha funzione di caglio, è mescolo. Aggiungo, aggiungo e mescolo, 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 ecco qui. E guardate che cosa sta succedendo. Le proteine che sono costituite dalle palline, e sono le proteine del formaggio, della caseina, vanno sul fondo. Le altre rimangono in sospensione. Queste proteine, le palline, si compattano, si mettono all'interno di una forma e ci danno il formaggio. Mentre invece, le altre che sono rimaste all'interno di questo liquido, costituiscono il siero del latte. Allora ecco qual è il modo. Si mette, si travasa, lasciando... Sì, adesso non lo faccio, perché poi se no schizzo, però il concetto è chiaro. Eccole, che le proteine che sono contenute nel siero del latte, dopo aver tolto le altre proteine che invece fanno il formaggio, consentono nuovamente di produrre un altro derivato del latte, che è la ricotta. Quindi, per concludere, facciamo il formaggio riscaldando il latte e mettendo una sostanza, il caglio, che consente di separare queste proteine globulari, si chiamano il cerco, che è la caseina. Mentre invece, le altre proteine, queste qui lineari, rimangono all'interno del siero e va riscaldato un'altra volta questo siero. Ecco perché si chiama ricotta, perché si cuoce una volta, si scalda una volta per fare il formaggio, si scalda una seconda volta per fare la ricotta. Hai capito? Sì, ho imparato anche questo. Quante cose abbiamo imparato? La ricotta è quello che mi è rimasto più impresso. Anche formaggio. Formaggio che sta all'interno della forma. O cacio, come dicevano gli antichi. O cacio. La riflessione è questa. La ricotta e le proteine del siero, che per lungo tempo non sono state tenute nella debita considerazione, sono gli alimenti biologicamente più nobili che esistano. C'è una scala di nobiltà di queste proteine, di queste sostanze benefiche per il nostro organismo, anzi, non solo benefiche, necessarie, indispensabili. Ebbene, le proteine del siero e del latte, queste qui della ricotta, sono al top. Nobili al top. Sono le più nobili che ci siano e anche le più. Grazie. Siamo al top. Grazie a Valerio Rossi, Albertini. E noi saremo al top anche domani alle ore 6 e 40. Giusto? Sei impazzito. Benetta Rinaldi, Umberto Broccoli a voi. A domani. Grazie a tutti.